Ecco, qualcuno segue la nostra rubrica anche di domenica, qualcuno la riprende poi attraverso queste forme streaming in video sul canale di Antenna 2, anche più tardi, però quelli che la seguono nel fine settimana, sabato, come oggi, può ricordare che stiamo nella giornata che ricorda la Madonna apparsa a Lourdes e ricorda anche la giornata mondiale del malato. Quindi è il pensiero che va a Maria Santissima e ai tanti che frequentano quel santuario per andare a trovare forza alla propria fede, a Lourdes, ma è il pensiero anche a tutti i malati, a tutti i sofferenti, a coloro che stanno vivendo in tanti modi il segno della croce sulla propria carne o nel proprio spirito. E partiamo ricordando un fatto che il nostro regista Vladimir, che pure credo sia un frequentatore di Vangelo, quindi lo conosce, però non aveva presente un fatto che è molto simpatico, se volete anche significativo. quando l'Evangelista racconta una giornata di Gesù, dice che era stato nella sinagoga, quindi si era ritrovato per la preghiera con la sua gente nel giorno di festa, qual era il sabato appunto, e poi esce e va alla casa di Pietro e di Simone, viene accolto, ospitato, siamo a Cafarnao e in casa di Pietro c'era la suocera, quindi dobbiamo supporre che Pietro avesse avuto, avesse una famiglia e la suocera che era stata colpita da una febbre, ma da una febbre talmente forte che sembrava stesse portandola addirittura alla morte. E allora dice il Vangelo gli parlarono di lei, già questo è bellissimo, quando noi mettiamo davanti a Dio nella preghiera i nostri ammalati, i nostri sofferenti, parliamo di loro a Dio perché li possa consolare, sostenere. Ecco, parlarono di lei a Gesù e Gesù prende per mano la suocera di Pietro, la fa rialzare, la guarisce. Noi diciamo un miracolo come usiamo solitamente questa parola, non sappiamo poi, ma questa è una parentesi cosa abbia pensato Pietro di un Gesù che gli ha guarito la suocera. Qualcuno fa qualche battuta che pensiamo sia un po' fuori luogo, ma può starci, un po' di sano umorismo può stare anche nel Vangelo. Ecco, Don Giovanni, questo gesto di Gesù che noi richiamiamo in questa giornata appunto dedicata in particolare ai malati, ci ricorda appunto come uno, diremmo, degli impegni che Gesù si è preso è proprio quello di essere attento a queste persone che venivano presentate a lui e prendersene cura. Sì, è bello, cioè noi negli evangelisti, specialmente nei tre sinottici, troviamo queste tipiche giornate di Gesù dove al mattino presto, quando era ancora buio, in luogo solitario, andava a pregare, frequentava la sinagoga, poi predicava il Vangelo e guariva gli ammalati, in questo caso proprio la guarigione della suocera. Ci sono lì due verbi, sappiamo che il Vangelo è scritto in greco, la lingua allora ufficiale, ecco, della cultura di allora e quella guarigione si usa il verbo anastesis, cioè praticamente la risuscita, la cambia, la fa una persona nuova e chi è la persona nuova? Non quella che si fa servire o punta il dito o comincia a rognare, la persona nuova si mette a servire, immediatamente la febbre la lasciò e incominciò a servire. Ecco quindi com'è importante certamente che Gesù è vicino agli ammalati, andate in tutto il mondo, predicati il Vangelo, guarite e chi incontrate nel corpo e nello spirito, però la guarigione è in vista anche di poter servire meglio il Signore e i fratelli. Quindi in un certo senso c'è il servizio alle persone che diventano oggetto delle nostre cure, ma poi loro diventano anche soggetto in un certo senso di aiuto, perché fra l'altro il mondo è stato salvato da uno che soffre da Gesù, quindi il malato non è inutile, ma serve il mondo in una maniera diversa attraverso una sofferenza valorizzata. Dobbiamo però dire Don Giovanni, perché qualcuno dice Gesù li presentavano malati, eccetera, li guariva, ma in effetti non ha guarito tutti i malati del suo tempo Gesù. E allora qualcuno dice ma come ha fatto delle scelte, oppure queste guarigioni che poi anche gli apostoli hanno compiuto, eccetera, avevano anche un altro spessore, un altro significato. Soprattutto il Vangelo di Giovanni mi pare che utilizzi una parola che non è il termine miracolo, ma un altro modo di dire. di fatti usa che ogni miracolo è un simbolo, un segno e fra l'altro in greco non si dice che guarì tutti, guarì polloi, polloi in greco dice molti, cioè quelli che avevano fede in Gesù e che potevano essere diventare segno di salvezza. Ad esempio guarisco un lebroso perché voglio rifare l'immagine dell'uomo. L'uomo è immagine di Dio, quindi non è un mostro. Guarisco un cieco perché lui possa vedere la luce e chi è la luce del mondo? È Gesù. Guarisco un paralitico che non riesce a camminare perché con la sua barella, cioè con il suo trantram, possa camminare verso casa sua, che non è a Vertova o a Torre Boldone, ma è in paradiso. Quindi sono segni di una guarigione più profonda. Fra l'altro però guarisce non tutti, ma quelli che si fidano, quelli che capiscono, quelli che intuiscono che Gesù non è un super medico, ma è davvero Dio che si prende cura dell'uomo guarendolo totalmente. Beh è un pochettino quel termine salvezza quando noi parliamo Gesù è il Salvatore eccetera è venuto a salvarci. In effetti è venuto a guarirci, a guarirci dal male, a guarirci addirittura dal male supremo che è la morte, a guarirci dal peccato che è poi all'origine di tanti mali. Per cui alla fin fine in questi che noi chiamiamo miracoli e che Giovanni appunto evangelista chiama segni, cioè che vogliono far capire qualcosa di più intenso, di più profondo. Allora possiamo un pochettino specchiarci dentro tutti perché è un po' incapaci di camminare, un po' ciechi, un po' sordi, un po' lebrosi eccetera, lo siamo tutti. Per cui la salvezza che Gesù ha operato al suo tempo con questi segni fatti su alcuni è per dire quello che in fondo Gesù fa per tutti e per ciascuno di noi. Difatti la parola Gesù vuol dire Salvatore e uno dice ecco il peccato contro lo Spirito Santo, io sono salvato dal portafoglio, basta avere i soldi, io sono salvato dalle mie idee, io sto bene, sto bene così. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo che non verrà perdonato perché la prima cosa da capire è che noi abbiamo bisogno di essere guariti, cioè guariti da tante cose, cioè dall'egoismo, da quelli che io chiamiamo peccati che ci staccano da Dio e dagli altri, ma soprattutto dovremmo riflettere che abbiamo una malattia che in nessuna farmacia ha la medicina che è la morte, perché anche adesso si parla tanto di vaccini, provate ad andare a chiedere una farmacia, ha il vaccino contro la morte, magari chiamano il 112 e dicono portatelo via questo qui perché è fuori di testa. Eppure ecco noi ad esempio quando andiamo a fare la comunione incontriamo Gesù Salvatore, lui ci vaccina contro la morte, io sono la risurrezione e la vita. Quindi teniamone conto di questo, Gesù è davvero il Salvatore totale dell'uomo. Ecco il Papa per questa giornata mondiale dei malati dà un messaggio sempre, evidenzia un po' ecco il fatto della malattia, come il cristiano abita anche questo dramma che prima o dopo prende tutti in qualche modo. Quest'anno ha voluto evidenziare anche il fatto della cura, il prendersi cura. Beh in effetti Don Giovanni se noi guardiamo un po' la storia della Chiesa, perché pensiamo Gesù ovviamente alla fonte e alla sorgente di tutto, gli apostoli che poi hanno tradotto sull'immediato l'insegnamento, tant'è che lui appunto ha detto andate e annunciate il Vangelo, scacciate i demoni e guarite i malati. Ma la Chiesa nel corso dei secoli direi che si è espressa in tanti modi e di fronte a tante fragilità umane con un grande impegno e mettendo in piedi anche iniziative, istituzioni eccetera per poter far percepire che stava svolgendo questa missione, questo compito di cura dell'umana fragilità in tutte le sue forme come Gesù le aveva affidato. La storia è piena proprio prima di tutto di questa consolazione che viene dalla fede, cioè il Signore che ti è vicino. Secondo, ha portato avanti un sacramento che non è l'estrema unzione ma l'unzione dei malati, cioè perché tu possa unire la tua sofferenza a quella di Gesù per il tuo bene, per la salvezza del mondo e poi proviamo a guardare, noi adesso parliamo di ospedali, casi di cura, fra l'altro tanti sono ancora intitolati a santi o a persone. Sono tutte iniziative portate avanti dalla Chiesa o addirittura dove c'erano o sacerdoti o frati o suore che prestavano il loro servizio per curare il corpo e poi magari anche l'anima perché abbiamo anche questo fatto, non ne parliamo mai, ma nel Vangelo si parla anche di gente posseduta da spiriti maligni, cioè praticamente il demonio che stacca da Dio e fa criticare gli uomini. Quindi questo, la Chiesa ha provveduto anche attraverso benedizioni, attraverso preghiere, attraverso, usiamo questa parola, esorcismi a liberare l'uomo da tutto il male nel corpo e nell'anima. Quindi non ha fatto altro che portare avanti quello che il suo Maestro Gesù gli ha detto. Beh, in effetti se pensiamo, e questa è un'osservazione mi pare interessante, il male non porta soltanto dolore, ma il male fa pensare male. Quando uno sta male rischia di pensare male della vita, rischia di pensare male un po' anche degli altri, rischia di pensare male della sorte che appunto gli è venuta addosso, rischia di pensare male anche di Dio. E direi che questo è un aspetto che prende un pochettino anche coloro che sono cristiani, che sono credenti, quando ci si trova nella sofferenza e nella malattia, si rischia di puntare il dito anche contro Dio, si rischia di pensare appunto che Dio si disinteressa di te. Quando viene a mancare una persona cara, soprattutto in certi contesti, magari una persona anche giovane, una persona che è stata portata via in modo così improvviso, si guarda un po' il cielo pensando appunto che il cielo si sia rabbuiato, che forse sopra quelle nuvole non ci stia nessuno a guardarci. Il male fa soffrire, ma il male crea anche disorientamento e fa pensare male. Ora Don Giovanni credo che qui il discorso della fede debba entrare in un modo saggio e intelligente, non dicendo cose fuori luogo come se Dio a un certo punto dovesse venire a fare l'assicuratore sulla vita. Fa il salvatore, ma non l'assicuratore. Non ha garantito neanche il figlio suo, è passato addirittura attraverso il mistero della croce e della morte, era il figlio di Dio. Non è stato garantito neanche Gesù, però è stato salvato dalla morte e risuscitato a vita gloriosa. Credo che si debba entrare a piedi scalzi con molta attenzione nel mistero della sofferenza, del dolore della croce, però entrarci portando un messaggio di fede là dove le parole umane non hanno più niente o sembra non abbiano più niente da dire. La prima cosa da toglierci di mente è che il male non è una cattiveria di Dio o un castigo di Dio nei tuoi confronti perché sennò avrebbe castigato suo figlio, la Madonna e i Santi. Ecco non è un castigo neanche una cattiveria. Nel Vangelo il Signore ne parla poco della sofferenza, l'ha accettata. L'ha accettata e diremmo così l'ha valorizzata. Ecco dunque la sofferenza se viene accettata ti insegna tante cose. Difatti quando a volte sei un po' in difficoltà magari cominci a riflettere, cominci a pensare, cominci ad apprezzare tutto quello che avevi e nello stesso tempo valorizzare perché se Gesù ha salvato il mondo soffrendo anch'io posso contribuire a rendere più bello il mondo. Ecco tenendone conto di questo che non sono solo discorsi, ecco sono cose da vivere noi e poi logicamente sarebbe anche bello che qualche volta chi si interessa della sofferenza, gli operatori sociali, infermieri, medici, entrassero anche in questo discorso perché oggi non è più anche l'ospedale, la casa di Dio, la casa della sofferenza. Sembra un po' un'azienda dove se ti va bene vieni a casa il più presto possibile. Se ti va male esci dalla camera mortuaria e due giorni ti cremano. Però ecco sono discorsi da fare sapendo che il Signore ha anche detto se uno vuol venire con me prenda la sua croce ogni giorno e mi segua e la croce è proprio questo terribile quotidiano che è bello ma che presenta anche delle difficoltà come anche lui. Chissà quante difficoltà perché l'hanno lasciato vivere tre anni poi l'ha messo in croce non è che quindi Dio l'abbia castigato è un po' il senso della vita che non termina lì però. Ecco nella fede però dobbiamo anche pensare che la cura del malato e quindi la comunità cristiana e tutti che ci prendiamo cura dei malati non semplicemente per tamponare non semplicemente per consolare scriveva un tale in modo mi pare intelligente la cura cristiana che è la cura cristiana e il sacramento che la chiesa ha tra le mani per poter venire incontro come fece Gesù ai malati è per togliere al male l'ultima parola per togliere al male un giudizio che si rischia di fare su Dio e sulla vita. Guardate che questo è il fatto determinante perché altrimenti anche noi diventiamo un po' gli operatori così che cercano di portare un po' di conforto che cercano di dire qualche parola di sollievo che la può dire chiunque la chiesa la comunità cristiana ha in mano un sacramento e una parola che cerca di scardinare il male per far percepire che quella non è l'ultima parola della vita. Cerca di scardinare addirittura la morte per far capire che quella non è l'ultimo accadimento della vita. Guardate che qui c'è la forza della fede non è semplicemente la fede un fatto è consolatorio che allora uno potrebbe dire e vabbè te te fe presta con tala se perché te ste be eccetera o ter cristià la chiontissue be eccetera in nome di Gesù Cristo eccetera il cristiano la chiesa entra a portare uno spiraglio a portare un respiro tra il male la morte e l'uomo per far capire che lì dentro c'è un passaggio ancora di speranza c'è un passaggio di vita. Credo che questo sia il fatto determinante Giovanni altrimenti rischiamo anche noi di essere dei buoni operatori sociali eccetera caritatevoli ma dove rischia la fede di non dire invece quella parola quella presenza e quella forza che Gesù Cristo le ha consegnato. La parola di Gesù è a volte anche il silenzio perché quando uno è ammalato la cosa più bella è sentire l'affetto la presenza delle persone e poi una cosa che tante volte noi accusiamo Dio il 90 per cento del male non lo fa il Signore lo fanno gli uomini le guerre la fame la violenza la cattiveria le maldicenze che ci sono in giro non sono volute dal Signore non serve come dire soffrono i bambini in Africa per la fame ma tu cosa fai cioè per queste cose ho creato te ma in Ucraina c'è la guerra ma il Signore non ha mai inventato la guerra quindi cerchiamo anche in un certo senso di non creare sofferenza malattia ma la nostra presenza il nostro agire il nostro modo di fare sia sollievo senza troppe prediche però la nostra presenza deve portare a pensare a queste cose. Ecco il Papa nel suo messaggio per questa giornata mondiale del malato ripresenta un po' la parabola il racconto del buon samaritano che si è fermato si è preso cura ha fasciato le ferite ha consegnato potremmo dire all'ospedale la locanda allora eccetera perché fosse una cura anche supplementare verso questo poveretto che era stato bastonato che era stato ridotto quasi in fin di vita e poi dice alla fine di questa parabola Gesù fate così anche voi siate persone che si prendono cura degli altri la cura dei malati nel corpo ma giustamente come sottolineavi Don Giovanni la cura di coloro che sono malati nello spirito e tante volte queste malattie sono anche più pesanti sono anche più difficoltose da portare e quindi la presenza di persone che rimandano anche alla presenza di Dio che ci accompagna sempre soprattutto nei tempi della fatica della croce diventa sommamente importante ecco il fatto che questa giornata mondiale del malato sia stata posta all'undici di febbraio giorno che ricorda appunto Maria Santissima fatta presente a Lourdes direi che non è secondario Maria Santissima è stata accanto a Gesù alla sua croce è stata accanto a lui nel passaggio della sua morte ecco sappiamo che Maria Santissima è senz'altro accanto a noi quando c'è croce quando c'è sofferenza là dove c'è il passaggio anche della morte è presente per essere madre che conforta ma che soprattutto che ci rimanda al figlio suo Gesù Cristo che sulla croce non ha visto chiudersi definitivamente nel dolore e nella morte la sua vita ma ci rimanda a quel Cristo che ha aperto lo spiraglio della resurrezione e ci dà la certezza che il cammino della vita è un cammino che va verso il compimento anche attraverso la sofferenza la croce e la morte non va a finire ma va a compiersi la nostra vita che Maria Santissima interceda quindi per tutti e prima o dopo un po' in un modo in un altro tutti incappiamo nella sofferenza e nella croce sia madre buona per tutti coloro che vivono questo tempo di croce e di sofferenza grazie a Don Giovanni della tua testimonianza grazie a voi che ci avete seguito come sempre l'augurio di una buona domenica